L'esperienza ci portiamo a casa, secondo me la consapevolezza della complessità dei fenomeni, non è mai tutto bianco o nero, ci sono tutte le sfumature. Ce ne siamo resi conto incontrando nell'arco della stessa giornata l'Equa Wensa prima e quindi ascoltando un po' la sua versione dei fatti su come la Polonia funzioni in questo momento e un capo dell'attuale Solidarnosc nel pomeriggio della stessa giornata che ci ha detto tutto il contrario, anche attaccando duramente le posizioni di Wauwensa. Quindi ci portiamo a casa questa complessità, questo sguardo poliedrico sui fenomeni. Un'altra cosa che personalmente ho notato è ammirare una città come Danzica, completamente diversa dalle nostre città a livello di architettura, a livello proprio di edifici, di tipologie degli edifici, vedere una città così completamente diversa e pensare che fa parte della nostra stessa casa, che è l'Europa e rendersi conto poi di quanto questa cosa sia sentita e di come iniziamo forse pian piano a sentirci veramente parte di questa Europa. Grazie.